Carlo, benvenuto nella famiglia dei Leoni del Garda. Le tue prime impressioni? Grazie, buonasera. Niente, veramente sono arrivato qua due ore fa e ho trovato già un ambiente veramente sano e ben organizzato. Già vedo come ho visto la struttura e tutto e quindi veramente non vedo l'ora di cominciare. Arrivi in una squadra al primo posto in classifica, in un grande gruppo consolidato, molto affiatato, in una società di grandi valori. Cosa sapevi di Ferralpisolo? Come te ne hanno parlato? Mi hanno parlato veramente bene. Ho sentito un mio ex compagno che è Magnino e che mi ha parlato veramente bene. Comunque ci ho giocato già contro e ho visto un po' di robe e quindi sono contento che sono qua. Sei giovane ma hai già tre stagioni di Serie D alle spalle, prima col Pordenone, poi col Cosenza. Cosa ti hanno insegnato queste esperienze? Cosa puoi trasmettere alla squadra? Cosa ti porti qui a Salò? Ma io cerco e spero di dare il mio contributo alla squadra. Quello che chiede il mister, io sono pronto. Quindi dipende anche dalla squadra dove devo interverire e dove devo fare il mio massimo. Hai citato mister Stefano Vecchi. Che ritrovi? Perché è stato il tuo allenatore alla primavera dell'Inter. Vi siete sentiti? Cosa vi siete detti? Sì, ci siamo sentiti anche adesso. È dieci, quindici giorni fa e lo conosco bene. Abbiamo vinto pure il campionato insieme quindi magari ci porta bene anche quest'anno. Carlo, allora, in croato, vogliamo sentirti dire, saremo capaci di vincere. Vremni smo za pobjede.